Allora, ringraziando Fabio che è sempre... Mi scuso se devo partire perché starei volentieri veramente... Si, c'è da fare un'altra di queste riunioni, poi ci teniamo in contatto perché tutte queste associazioni, no? Adesso piano piano, dobbiamo coagulare, mettendo su un gruppo scientifico, un gruppo giuridico e facendo formazione della gente. Io ho iniziato negli OGM, tu ho visto che hai iniziato nelle altre cose. Dobbiamo cambiare l'humus, dobbiamo cambiare l'humus. Allora, ringraziando di nuovo Fabio, adesso io darei una parola. Grazie Fabio. Fare in successione, dottor Vincenzo Rodondo, professor Tavoletti e Loris Asoli, cooperativa La Terra e il Cielo. Allora, vieni qui. Così andiamo a capire le alternative. Tutti loro sono, diciamo, esperti di come per nulla in agricoltura e in zootecnia, secondo le differenze, in una maniera accettabile senza questi disastri. Sì, buonasera, mi dispiace che purtroppo non ci siano più le persone che c'erano prima, tutte perché c'erano prima, così magari potevamo dialogare un po', comunque insomma. Io sarò abbastanza semplice. Io mi interesso da qualche decennio, da alcuni decenni di agricoltura biologica, quindi sono un biologo prestato a le scienze agrarie, perché non so, quindi per questo motivo forse ho sempre, ho avuto, diciamo, la possibilità di avere un po' la visione aperta, no? Perché magari l'agronomo è un po' più settoriale, diciamo, in grecia. Ah, vedi tu sei un biologo come me? Sì. Ah, dai, dai, io credo che fossi un agronomo. No, se l'ho fatto... Eh beh, certo, poi de facto... Mi sono specializzato in filosofia, quindi ho fatto un po' sia l'uno che... Hai lavorato sui due... Sì, sì, ho lavorato, ho avuto esperienze sia da l'uno, e ho fatto ricerca sia per l'uno che per l'altro, quindi un po' di anni per l'uno. E per questo motivo, diciamo, ecco, ho potuto completare un po' di quelle esperienze che volevo, insomma, completare. E mi sono reso conto da subito dell'importanza, diciamo, che è la tutea dell'ambiente. Questo parlo già da circa 35 anni, quindi... Da quando in pratica ero in giovanissima età, quindi stavo finendo ricerca. Da allora, appunto, ho capito che bisognava agire da questo punto di vista, perché chiaramente le produzioni venissero fatte nel modo idoneo. Quindi, idoneo che vuol dire? Vuol dire chiaramente che venissero fatte secondo, favorendo la natura. Noi, riprendo un qualcosa all'argomento di prima, qualcuno ha detto che l'ambiente è una nostra risorsa. Forse noi siamo la risorsa dell'ambiente, chiaramente, perché l'ambiente è il cappello. Diciamo, noi siamo facenti parte, e quindi siamo una risorsa. Una risorsa che può essere utile, quindi che chiaramente si comporta in un determinato modo. Dannosa, perché se comincia a comportarsi in un altro modo. Abbiamo visto chiaramente le problematiche riguardo alla scomparsa degli organismi di eventi. Sono stati appunto in ere passate questi grossi sconvolgimenti che hanno determinato la scomparsa di tutti gli organismi. che sono state, sono periodiche diciamo, probabilmente all'epoca sono state dovute a fattori esclusivamente di tipo ambientale. Adesso noi stiamo cercando di indurre un po' questa cosa, cioè accelerarla. diciamo, non stiamo favorendo un po' di nuovo il termine di questo ciclo, cioè la chiusura di questo ciclo. Finché ci siamo, cerchiamo, insomma, di prolungarlo un po', no? Questo ciclo, cioè prolunghiamolo comportandoci in maniera adeguata. La maniera adeguata è quella, ripeto, di fare le cose che si osservano in natura. Quindi basta soltanto osservare, ne basta ciò che fa un organismo vivente a livello, chiaramente, del suo habitat, va studiato e chiaramente reso poi ottimale per quanto riguarda il suo sviluppo. Per esempio, per quanto riguarda i sistemi di produzione agricola, i sistemi di produzione agricola vanno fatti non solo, e questo dopo, diciamo, chiuderò appunto, facendo delle proposte, non solo per favorire lo sviluppo economico, ma vanno fatti sempre tenendo conto, chiaramente, del fatto che ogni azione che noi facciamo a ogni azione corrisponderà, chiaramente, un'altra azione uguale e contraria, no? Quindi se noi, chiaramente, andiamo a concimare il terreno con prodotti chimici, concentrazioni rilevanti, è ovvio che questo non sparisce, ok? Si metabolizza, quindi si trasforma, diventerà un qualcos'altro, no? Sicuramente, come qualsiasi altra cosa che noi facciamo. Quindi viene elaborata e quindi viene restituita in altro modo. Con i metodi, diciamo, dell'agricoltura biologica, si è teso, già ormai da oltre un ventennio, proprio a questo, cercare, in pratica, di coltivare senza incidere in maniera pesante su l'ambiente. Quindi, un'alternativa, che oramai non è più una giovane alternativa, ripeto, ma è un qualcosa già abbassato, perché l'agricoltura biologica, come sapete, è nata e come il regolamento monetario è stata ufficializzata nel 91, perché il regolamento risale al 91, il famoso 2092 del 91, ma già precedentemente si faceva agricoltura biologica, tra virgolette, biologica, perché prima veniva chiamata, diciamo, in modi diversi e, come sappiamo, c'è stato già qualche d'uno che diversi decenni prima si era occupato di questo, no? Steiner, chiaramente, aveva già pensato, e non solo, diciamo, no, ma aveva già dettato delle regole di comportamento, anche dal punto di vista agricolo. Quindi, praticamente, noi, con il regolamento comunitario, cioè la comunità economica europea, ha soltanto ufficializzato un sistema che era già utilizzato da parecchi a livello europeo, e non solo, perché prima che il regolamento comunitario, che è stato il primo, effettivamente, che ha ufficializzato questa cosa, tanti altri nel mondo portavano avanti questo tipo di metodo. Infatti, la comunità economica europea ha fatto da esempio, subito dopo sono usciti gli altri regolamenti, no? Cioè, negli altri continenti, negli Stati Uniti, quindi l'America, poi l'America settentrionale, poi l'Australia, e poi via in Asia, eccetera. Quindi, l'agricoltura biologica, io non sto più a spiegarvi che cos'è, perché tutti quanti sicuramente sanno di che cosa sto parlando. Non c'è la percezione, da agronomo, del fatto che è una reale alternativa, cioè molti dicono, è un'agricoltura, ti faccio da sponda, è un'agricoltura di nicchia, no? Va bene, insomma, fa un po' di poesia, ma non potrebbe mai diventare l'agricoltura. Dacci la percezione che non è così, se vuole, perché si fa, ma è un mondo. Eh, sì, perché ti dico... Volevo giungere, volevo saltare tutti i preliminari, perché chiaramente... E giungere proprio, diciamo, al concreto. In concreto, diciamo, coltivando col metodo agricolo biologico, si può fare moltissimo. Non voglio dire tutto, perché sennò qualcuno non potrebbe dire, ma quello dico, perché io ogni volta che dico tutto, che ho detto tutto, poi c'è sempre quello che dice, eh ma le barbabietole, eh ma... Le barbabietole da zucchero, poi, ecco, perché noi... Ha detto che regola risposta. No, esatto, ma c'è, perché insomma, è chiaro che se io faccio colture intensive di barbabietole da zucchero in pianura padana, nel, che ne so, nel trevigiano in particolare, è chiaro che devo utilizzare determinate cose, perché lì i terreni sono già talmente infestati, perché sono stati veramente sfruttati talmente tanto, per cui è normale che se io faccio una coltivazione di barbabietole in me, c'ho subito l'attacco dei amadoni. È normale, ma perché? Perché già ci stanno, non è che è colpa di agricoltura biologica. Ancora, perché non è capace, diciamo, di contrastare questi. Perché il tipo, i metodi che sono utilizzati prima, non erano idonei, perché chiaramente sono terreni dove, per esempio, il barbabiero, ma non solo, o magari altre culture a fittone o a bulbi, chiaramente, sono state fatte precedentemente, quindi predisponenti per un amadone. Quindi, però, la agricoltura biologica è utilizzabile tranquillamente, soprattutto in tutte quelle zone che hanno avuto, diciamo, una concentrazione dal punto di vista delle culture non super intensiva, quindi anche in pianura, in moltissimi casi, però facilmente in collina e chiaramente in montagna non c'è alcun problema. Inoltre, per quanto riguarda le culture in pianura, anche qui è possibilissimo coltivare come la agricoltura biologica, perché ormai, diciamo, con un'esperienza più che ventennale, abbiamo visto che facendo le giuste rotazioni agronomiche, dopo 4-5 anni, si riesce a equilibrare il terreno e, quando si è equilibrato il terreno, si riesce tranquillamente a coltivare. Anche quelle culture che sembrano impossibili, anche il barbabito, ecco, che sembrano, diciamo, così impossibili per quelli, diciamo, che sono invece contro questo tipo di metodo. È chiaro che ci vorrà del tempo, è normale. Se io comincio a coltivare un terreno che è stato coltivato per 40 anni o più col metodo, tra virgolette, convenzionale, è normale che non si può pretendere che io applico il metodo agricolturo biologico e subito c'è i risultati, perché, ovviamente, è come l'individuo che si becca la polmonite perché, chiaramente, ha avuto dei problemi dal punto di vista del stress oppure c'è avuto altre problematiche perché ha avuto altre patologie. È chiaro che dovrà fare una terapia antibiotica potente e non male che ci avrà un periodo dove, chiaramente, si dovrà riprendere, giusto? È la stessa cosa per un terreno, quindi dobbiamo avere la pazienza di convertirlo. Per questo motivo c'è anche la conversione, che a livello comunitario è stabilita, per esempio, in due anni per le erbacee, per l'arbore è tre anni. La conversione serve esclusivamente per i predi a far ridurre i quantitativi degli eventuali fitofarmaci presenti, però non va a considerare questo che ho detto io, cioè il riequilibrio. Infatti, la cosa più giusta, per esempio, è quello che prevede l'agricoltura biodinamica, che invece dà dei tempi più lunghi. Quindi, questi però, non sono legati alla riduzione dei fitofarmaci presenti, ma è l'intenzione quella di far ridurre il terreno dal punto di vista della rivitalizzazione del terreno stesso. Quindi far di nuovo ripopolare il terreno con tutti i microrganismi necessari a metabolizzare le sostanze nutrienti presenti e ridare forza al terreno. Questo si dice rivitalizzato. Quindi, sicuramente un tipo di agricoltura ottimale è l'agricoltura biodinamica, cioè quella che giunge appunto alla rivitalizzazione e quindi è quella che dà la possibilità di ottenere un prodotto effettivamente valido da tutti i punti di vista. L'agricoltura biologica è però chiaramente un passaggio, un passaggio sicuramente necessario, no? Perché se io appunto devo passare da un terreno che è stato sfruttato molto, utilizzo prima l'agricoltura biologica, è normale. Perché mi rende più semplice anche abituarmi, no? Questo serve a noi soprattutto, no? A meno che non ci sia un agricoltore particolarmente sensibile o particolarmente paziente che chiaramente sottosta a questo metodo che è piuttosto complesso, diciamo, inizialmente, e nudo soprattutto. Comunque, per quanto riguarda le possibilità di resa, abbiamo visto che con l'agricoltura biologica non ci sono grosse differenze. In tutti questi anni ho fatto sperimentazioni con diverse università, centri di ricerca, eccetera, abbiamo visto che coltivare in agricoltura biologica, con il metodo biologico e coltivare in convenzionale, la differenza al massimo arriva a un 10-15% dal punto di vista della produttività. al massimo, diciamo, se il metodo è applicato in maniera corretta, in terreno equilibrato, quindi alla fine è accettabile, anche perché è inutile dire, perché è stato già detto da tanti altri, prima di me, il quantitativo è relativamente utile, giusto, considerando le grosse eccedenze che ci sono. Quindi l'obiezione che si può fare sempre, eh, ma i quantitativi, la fame nel mondo, tutte balle, perché chiaramente la stragrande maggioranza, sappiamo che le produzioni cerealicole viene sprecata, no? Sprecata attraverso i vari passaggi e le eccedenze. Quindi, importante produrre di qualità, anche perché un prodotto di qualità è più valido anche a livello del biologico trasformato. Quindi, inutile che io vado a produrre una quantità enorme di prodotto scadente, che chiaramente non mi va a soddisfare, e poi la filiera, no? Questo vale per tutte le cose, compresa la zootecnia. Chiaramente. Perché? L'altra obiezione che si fa spesso è quella che, eh, ma in zootecnia abbiamo bisogno di enormi quantitativi, no? Perché chiaramente, quando dobbiamo andare a alimentare, soprattutto i bovini, chiaramente questi consumano tanto, e quindi noi dobbiamo avere la quantità di mangime necessario, per alimentare. Ma ci sono, per esempio, tantissime culture alternative, che non sono, chiaramente, con concentrazioni a livello proteico così inferiori alla soia, per esempio. Ormai, da anni, ci si è concentrati esclusivamente su questo tipo di prodotto, no? Che, per forza, dentro il mangime ci deve stare la soia, perché è il legume che ha la maggior quantità di proteine. Si può sostituire benissimo con tanti altri, anche con quantitativi inferiori di proteine, però possono essere integrati. Quindi, no, la qualità è sicuramente quella fine migliore. Abbiamo visto che, per esempio, oggi abbiamo mangiato, per esempio, una varietà di pisello, no? che è sempre il pisulzatilum, però è l'ardenza, insomma, no? Che è una varietà sebbatica. Esistono tante altre. Infatti, mi interessava abbastanza perché ho in mente di farci una sperimentazione, ma ho già sperimentato tanti altri tipi di pisello proteico, per esempio, no? Che, tra l'altro, hanno un'eccezionale capacità adattativa ai terreni. Quindi, soprattutto nel nostro territorio va benissimo perché, oltre ad essere ad alta concentrazione ecoterica, ripeto, si può coltivare benissimo in zone anche non proprio ottimali, quindi in collina e, diciamo, anche in montagna, in certi casi. Si può seminare insieme ad altri perché può essere consociato, per esempio con i cereali, e va benissimo. Per esempio, io ho fatto sperimentazioni con l'orzo, cioè, il pisello proteico e orzo va benissimo perché l'orzo ha un pulmo rigido che riesce a sostenere il pisello, quindi il pisello proteico, quindi ha la doppia funzione siccome prima sale il culmo dell'orzo e il pisello, ovviamente ci si avvolge intorno. Non competono perché chiaramente l'uno serve all'altro, tutto al contrario, perché se è inoculato in maniera opportuna gli cede pure l'azoto che gli serve in proporzione al cereale e quindi alla fine noi abbiamo una produzione di cereale e legume necessario per fare già una buona porzione di maniera. La maturazione è allo stesso periodo? Sì, sì, anche quello è ottimato. Quindi, anche quello. Che lui già ci pensa all'applicazione. Quindi, per esempio, noi in un'orzo il pisello proteico da anni nell'azienda dell'università lo stiamo producendo per l'uso del zochetto. Quindi, è solo un esempio. E va bello? Benissimo. Certo. Io almeno. Soglie a 50, pisello proteico 24. Sì. Quindi devi ricambiare le forme. Certo. Però, almeno, dall'esperimentazione che abbiamo fatto noi, abbiamo trovato... Vanno un po' di fattori antinutrizionali, però per i luminanti vanno benissimo. Per i luminanti vanno benissimo. Per il maiale dipende la categoria. Per i maiali ci sono altre cose. Quindi, oltre a quello possiamo utilizzare anche, per esempio, c'è sempre anche il farino che si può utilizzare. Perché per i maiali già va meglio. Per esempio, c'è la medica, ma non la medica talquale, c'è la medica disidratata, che va benissimo. Perché? Perché chiaramente abbiamo visto invece che questa agli avicoli è eccezionale. Alle ovaiole, soprattutto, quando gli si fa il mangime con una porzione di medica disidratata, gli dà, chiaramente, la possibilità di deportare le uova anche, diciamo, di dimensioni, perché prima si lamentavano, no, le dimensioni, non più piccole, no, anche delle giuste dimensioni. la medica contiene con gli estrogi dell'America. è un po', è un po', non ho il senso positivo, ecco perché fa l'uomo. Il problema è la fibra nel cuore, il problema è la fibra se la sceglie. infatti, stiamo parlando delle ovaiole, infatti, stiamo parlando delle ovaiole, va benissimo. Quindi, comunque, per ognuno, per ogni tipologia, c'è. Perché abbiamo visto un po' su ognuno. su un centuale passo, non è fatti a niente. Eh, certo, se non gli viene. Va adattato, quindi, e comunque sono tutte culture che in biologico vanno benissimo, si fa tranquillamente senza alcun problema, perché la medica, ovviamente, non ci crea nessun problema, non ha bisogno di niente, quindi, né pitofagici, né fertilizzanti, né fidolecolaticosi, né conservanti, perché poi, se io la disidrato, quindi, non ho bisogno neanche di questo. Quindi, alla fine, ho ottenuto un prodotto altamente, di alto valore nutrizionale, senza aver impattato con l'ambiente. Quindi, e poi, senza neanche, chiaramente, andare a creare scompensi di livello economico, così non ci sta neanche, questa critica qui, ma ormai sono decenni che lo facciamo, non è che ti chiedono un codice, cioè, sono cose che vengono fatte da mesi, sono tanti anni che queste cose vengono fatte. Siamo riusciti, mi ricordo, siamo riuscito, diciamo, a convincere circa 16 anni fa, 16 o 17 anni fa, un grosso disidratatore a cominciare a produrre, appunto, le farine di medica da agricoltura biologica, si trovano, tra l'altro, a nord di Roma, quindi, quando passo tutte le volte, le farine razziali, non sono, che chiaramente, loro gestiscono in affitto diverse migliaia di ettari di terreno, di terreni coltivati a medica, e loro hanno accettato di fare questa prova e hanno visto che andava benissimo e ci hanno ringraziato perché chiaramente hanno visto che mi dicevano, perfetto, si coltiva in maniera ottimale. Gli agricoltori hanno abbattuto i costi di gestione, noi chiaramente troviamo che il prodotto sia migliore di quello che è coltivato utilizzando i fertilizzanti, perché ovviamente a America meno si danno fertilizzanti azionati, ovviamente è migliore, perché chiaramente gli spibra, gli da, chiaramente gli riduce la qualità, quindi, alla fine è molto meglio coltivare il biologico piuttosto che il convenzionale. Questo, diciamo, sono tutti esempi, ma ve ne potrei fare adesso decine e decine. In ogni caso siamo riusciti in quasi, in tutti i casi siamo riusciti a trovare delle soluzioni in tutti questi anni, anche nei tutti, quindi, dove chiaramente ci sono pure delle peculiarità, giusto? Per esempio, nei vigneti dove all'inizio ci dicono è impossibile fare agricoltura biologica perché la peronospora non si può contrastare. Noi, dalle nostre inerlazio, come dicevano, sui colli non è possibile, l'oivio è il peggiore dei mali, non è possibile contrastarlo in biologico. immaginate che oggi io come consulente controllo una serie di aziende sui castelli romani che fanno agricoltura biologica dei vigneti che addirittura non solo non hanno problemi con lo video, ma si riesce a produrre anche un prodotto finale, cioè un vino di alta qualità addirittura con un metodo ancora più innovativo, con un metodo naturale. cioè quindi senza, e questa è una cosa che sto facendo io in particolare, quindi senza un utilizzo di additivi, a dire, perché? Perché sono partito in campagna, cioè si parte chiaramente con la remotivazione del numero, se io coltivo la lignia in un determinato modo avrò un prodotto che non avrà bisogno di additivi, perché? Perché lui stesso come un qualsiasi organismo vivente ha le sue possibilità di difesa e quindi che si fa? Io cerco soltanto di stimolare questo, devo stimolare questo, è chiaro che se io coltivo la vigna, qui, da questa parte sulla triade, cosa abbiamo? San Menedetto del Tronto? Che ne so, ecco, coltivo la vigna sulla spiaggia al San Menedetto del Tronto, non credo che sia una cosa adeguata, giusto? No, no, ecco, è normale che io devo coltivare ogni specie nel giusto, nel posto giusto. quindi è questo che bisogna fare, manca, prima c'era, adesso non c'è più, perché non è che manca, perché grazie all'avvento della chimica questa ci ha voluto far dimenticare ciò che era normale, cioè, gli agronomi, e questo purtroppo devo dire, devo fare oggi, sono formati purtroppo esclusivamente sulla base di ciò che la chimica vuole, come i medici purtroppo ciò che l'industria farmaceutica vuole, cioè, è statino. All'università, ora, spesso, vediamo il professore insieme col ricercatore dell'industria farmaceutica che fanno lezioni, cosa, nessuna, come succede quando si va all'università, ho avuto un'esperienza io, a Volunti, quindi, c'era, chiaramente, il professore e insieme veniva il responsabile dell'industria chimica, anche lui, a fare lezioni, con la scusa che si, chiaramente, promuoveva un qualche cosa di innovativo, però, veniva a dirci che cosa bisognava fare per ottenere un prodotto migliore. la cosa fondamentale per andare a risolvere concretamente i problemi è questa, prima di tutto la formazione, quindi, andare a incidere di nuovo in maniera precisa nell'ambito universitario, cioè, chi forma deve formare al di fuori di qualsiasi interesse di tipo economico, questo sempre. Poi, sarà il formato che decide quello che deve fare, ma io ho l'obbligo di formarlo secondo i giusti metà scientifici, senza ingerenza, assolutamente, perché, altrimenti, se io formo un individuo con ingerenza e questo qui, chiaramente, che cosa fare? Così, mi hanno detto, io, devo usare quello perché mi hanno detto che quello va bene, però non conosco l'altro, e questo purtroppo è colpa nostra di chi purtroppo forma, anche, purtroppo, quindi dobbiamo cominciare prima di tutto a fare noi un po' di mia colpa, cercare di ritornare di nuovo alla formazione etica, anche qui, nel senso che noi dobbiamo trasferire le conoscenze effettive, e dobbiamo dire, allora, questa è la possibilità se fai in questo modo ottieni questo risultato, se fai in quest'altro modo puoi ottenere quest'altro risultato, poi ci sono, poi ci sono una serie di possibilità ulteriori che puoi avere, ma non si può fare come all'epoca fece il mio professore di economia agraria, mi disse quando io chiaramente andai a sfumillare e mi dice ma lei qui ci sta dicendo che noi dobbiamo fare i tecnici legati esclusivamente alla risposta economica, giusto? Ma io non devo farmi l'economista, mi dice scusi, io vado in un'azienda agricola e vado l'agricoltore che mi chiama, mi chiama perché? che ha bisogno di consigli relativi al meglio di produzione, al meglio che può fare per quanto riguarda diciamo l'applicazione non solo delle metodologie ma anche delle culture che può fare. Quindi io sono responsabile di questo, io devo dire quello che deve fare di meglio. Poi, chiaramente quello che lui farà dal punto di vista economico è l'interesse suo, io non mi devo interessare poi della parte strettamente economica, a meno che lui non me la chiede, ma io la posso dare come consiglio, lui sosteneva che invece il nostro compito era quello di far produrre produzioni economicamente valide e questo termine mi piaceva, economicamente valide, che io che vuol dire economicamente valide? Dice ma come? Voi dovete fare in modo che le produzioni agricole che giungono nei mercati e nei supermercati abbiano un'estetica, ecco questo, un'estetica giusta per essere apprezzati dal punto di vista commerciale. E allora dico a noi, la nostra figura di tecnici dove sta? Dico, non esiste, cioè per far ottenere un prodotto che è commercialmente valido, io vuol dire che ho la licenza di utilizzare qualsiasi cosa, no? Giusto? E lui dice, ma a me non mi interessa, voi dovete fare questo perché questo è il nostro compito. e io questo non l'ho accettato, io non l'ho ancora, io non l'accetterò mai ancora oggi, quindi io anche mi andieri continuo a dire questo. Non esiste, dico, voi deve comportare fondamentalmente come persone etiche, perché la cosa fondamentale non è il risultato economico dell'individuo, ma voi dovrebbe badare all'economia dell'ambiente perché quella più importante, fondamentale, cioè dopo, veniamo noi, molto dopo, anche perché se noi non manteniamo l'economia ambientale e quindi la biodiversità, perché quindi chiaramente lo paghiamo, lo paghiamo tutti, anche da questo punto di vista, ok? No, io se mi chiudo, no, perché ci sono sicuramente io lo so proprio no, no, ma è un po' 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 grazie. Grazie. Grazie.